Non solo, Primavera 3 per il settore giovanile dell'US Avellino 1912, archiviata la stagione della squadra guidata dal duo Iandolo Bianco-Lino, che ha portato diversi elementi in prima squadra, tra cui Mokanu, che ha fatto il suo esordio, in occasione della gara in esterna con il Mari, prima convocazione per Giuseppe Petrone, classe 2003, estremo difensore della formazione bianco-verde. Tanta la soddisfazione da parte della dirigenza dell'US 1912. Petrone è da due anni tra le file della Primavera 3, dimostrando continuità ed ottimi margini di crescita. Il progetto JUT continua senza sosto, dunque, tra le formazioni impegnate in queste settimane Under-17, Under-16 e Under-15. La prima nell'ultimo turno di campionato, abbottuto con il punteggio di 0-11, il campo basso. Ad oggi, Lavellino è il terzo posto in classifica, le spalle di Paganese a quota 43 punti e Juve e sabbia, appaiate insieme appunto a Lavellino a quota 39. Successo in esterna per l'Under-15, targate Alfonso Pugliese, che ha battuto in esterna i molisani con un secco 1-3. Quadro di giornata che si conclude con la sconfitta per l'Under-16 contro la Paganese, 3-2. Progetto che vede anche il calcio in rosa raccogliere dei buoni risultati di stagione. Risultati che dunque testimoniano la volontà della società guidata dalla famiglia d'Agostino di creare un serbatoio di giovani per il futuro.